Gli Express Certificate appartengono alla categoria dei certificati capitale condizionatamente protetto e sono adatti nei casi in cui si abbia un'aspettativa di mercato moderatamente rialzista. Chi saranno gli investitori che utilizzeranno gli Express Certificate? Sono il signor Formica e il signor Bradipo, cioè coloro che non si aspettano che il mercato il titolo in questione salga o scenda tanto, ma ben si confidano in salvaguardare il capitale, sapendo che basta che il sottostante sia sopra il livello di partenza in almeno una delle rilevazioni periodiche, così da ricevere una buona remunerazione del capitale investito. La struttura Express è particolarmente adatta a fasi di mercato laterale rialzista, in quanto offre un'esposizione ottimizzata al sottostante e consente di trarre vantaggio sia da un andamento al rialzo, sia da un andamento stabile, garantendo in questi casi il pagamento di una cedula prestabilita e garantendo comunque la protezione del capitale, anche qualora il sottostante sia in perdita rispetto al valore di rilevazione iniziale, purché la barriera non venga violata a scadenza. Come struttura, gli Express Certificate sono caratterizzati dalla possibilità di essere rimborsati automaticamente ed anticipatamente con un interessante rendimento ad una delle date di rilevazione intermedie, anche fin già dal primo anno, qualora il prezzo del sottostante sia pari o superiore a un prezzo, che è solitamente lo strike price, che è detto anche il livello callable, proprio perché farebbe scattare il richiamo callable da parte dell'emittente. Da un coupon di rimborso, ossia una cedula che va ad aggiungersi al capitale di partenza, da una o più date di rilevazione intermedie, da un livello di protezione o barriera, fissato solitamente in una percentuale del prezzo strike. Alla scadenza, l'Express Certificate viene automaticamente rimborsato e l'investitore riceve un importo di liquidazione in funzione dell'andamento della quotazione sottostante rispetto al valore iniziale, del livello trigger e della barriera fissati all'emissione. Se a scadenza è sottostante al di sotto di un determinato livello, definito barriera, il certificato perde la protezione e l'investimento diventa equivalente all'investimento diretto nell'attività sottostante, con un rischio di perdita paragonabile a un normale investimento azionario. L'effetto memoria, inoltre, tipico delle strutture Express, consente di recuperare le cedole non pagate. Se alla data di rilevazione successiva si verificano i requisiti per il pagamento della cedola. Una cedola non riconosciuta può essere recuperata l'anno successivo, in aggiunta alla cedola corrispettiva, qualora alla data di rilevazione il valore sottostante sia al di sopra del livello trigger. È importante tenere presente che se alle date di rilevazione previste il prezzo dell'attività finanziaria sottostante non è mai superiore al livello trigger, il certificato non produrrà risultati positivi, ma al massimo proteggerà il capitale investito, se alla sua scadenza il prezzo è ancora sopra al livello di protezione o barriera. L'investitore comunque corrava un rischio ridotto, anche qualora abbia sbagliato le sue provisioni. Se il sottostante dovesse vivere un momento di forte crescita, il certificato express viene rimborsato alla prima data di valutazione e cessa di esistere. Se invece il sottostante dovesse subire un forte ribasso, l'investitore è protetto finché non viene toccata la barriera e quindi non incoerà nelle perdite che subirebbe invece se avesse investito direttamente nel sottostante. Solitamente il livello barriera viene considerato solo alla scadenza del certificate per determinare l'applicabilità della protezione e l'importo di regolamento. Perciò si dice che la barriera è discreta e non continua. Passiamo ora a qualche esempio pratico. Se prendiamo un express certificate a 3 anni, concedo al 10% e barriera al 30% dello strike, possiamo riassumere quello che può cadere in questa slide. Alla prima data di rilevazione, il sottostante, se è salito sopra lo strike, avviene il rimborso anticipato del capitale più un importo addizionale del 10%. Se il sottostante è diminuito, non si riceve l'importo addizionale e si prosegue alla seconda rilevazione. Alla seconda data di osservazione, se il sottostante è salito sopra lo strike, avviene il rimborso anticipato del capitale più l'importo addizionale del 20%, il 10% non percepito in sede di prima rilevazione più il 10% della seconda rilevazione. Se invece il sottostante è diminuito, si prosegue sino alla prossima rilevazione con effetto memoria. All'ultima data di relazione si possono verificare tre casi. Il sottostante è salito sopra lo strike e quindi avviene il rimborso del capitale più l'importo addizionale con effetto memoria. In questo caso c'è il cumulo di due rendimenti non percepiti e si arriva a prendere il 30% di importo addizionale. Il sottostante è diminuito ma è sopra la barriera e in questo caso viene rimborsato il capitale da 100%. Se il sottostante è diminuito ed è sotto la barriera invece viene rimborsato un importo di rimborso pari al prezzo di emissione decurtato della performance negativa registrata dal sottostante e si ha quindi una perdita in conto capitale. Facciamo un esempio su un certificato express sull'indice Eurostox 50 emesso da Unicredit con scadenza 7 novembre 2016. In questo caso Unicredit ne ha emessi due con stessa scadenza, stesso sottostante e stesso strike. L'unica differenza che li contraddistingue è la barriera che in un caso è fissata al 10 e nell'altro al 30. Ovviamente cambia la remunerazione del certificato. Vediamo come. Il primo di questi certificati ha una durata di tre anni e prevede sin dal primo anno la possibilità di rimborso anticipato nel caso in cui il valore del sottostante sia maggiore o uguale rispetto al trigger level. Questo livello è stato fissato al momento di emissione ed è pari a 3054,53 punti. Ne consegue che il livello di protezione a scadenza è fissato in 2138,171. Se in una delle dati di rilevazione stabilita in sede di emissione la rilevazione sottostante è superiore o uguale a un livello prefissato, il certificato scade anticipatamente. Le cedole praticamente sono pari all'8% all'anno. La prima rilevazione dopo un anno, l'11 novembre 2014, il certificato pagherebbe 108. Se questo non avviene, perché il sottostante è sotto i 3054 punti, si passa alla successiva rilevazione e così via. In questo caso le rilevazioni successive sono semestrali, per cui l'11 maggio viene pagato 112, quindi 4 punti in più, l'11 novembre 2015 116 e via via, fin tanto che in una delle date di rilevazione il livello trigger non viene superato. Se questo non avviene, il certificato va avanti fino alla scadenza. Quindi questo certificato dopo il primo anno ha due date di osservazione annuali. Se in una di queste il valore di riferimento sottostante è maggiore o uguale rispetto al trigger level, il certificato scade anticipatamente e rimborsa quanto abbiamo visto in tabella, aumentando di fatto ad ogni rilevazione proprio per l'effetto memoria. Se dovesse arrivare a scadenza senza essere mai stato sopra i 3054 punti, nelle varie date di rilevazione precedenti, si possono presentare tre scenari. Se il valore di riferimento sottostante è maggiore o uguale rispetto allo strike, il certificato rimborsa 124. Se il valore di riferimento del sottostante è minore rispetto allo strike, ma maggiore o uguale rispetto alla barriera, in questo caso fissata al 70% di livello trigger, il certificato rimborsa 100, cioè il capitale investito. Infine, se il valore di riferimento del sottostante è inferiore alla barriera, viene corrisposto un valore di rimborso proporzionale alla performance del sottostante a scadenza. In quest'ultima ipotesi il certificato non garantisce il rimborso del capitale investito. Prendiamo ora l'altro certificato, con caratteristiche simili, per vedere cosa cambia se per avere un interesse più alto o dall'altra parte una barriera meno protettiva. Prendiamo l'altro certificato express sempre sull'indice allo stock con la stessa scadenza e barriera fissata al 10% sotto allo strike. Essendo emesso lo stesso giorno dell'altro, ha medesimo strike price, quindi il livello trigger è lo stesso e pari a 3054,53 punti. Ne consegue che il livello di protezione a scadenza, in questo caso fissato solo al 10% in meno del livello trigger, è fissato in 2749 punti. In questo caso il certificato, oltre ad avere una cedola più alta, ha anche un'ulteriore data per far scattare il rimborso anticipato, anche già dopo 6 mesi, quindi la prima data di rilevazione è il 12 maggio 2014. In questo caso rimborserebbe 104,75 se l'indice Rostor 50 il 12 maggio 2014 fosse pari o sopra il livello trigger. Come il caso precedente c'è l'effetto memoria, quindi ogni 6 mesi si ripete la rilevazione e qualora il certificato venisse rimborsato anticipatamente, il valore di rimborso ad ogni rilevazione cresce di questo 4,75. Quindi all'11 novembre sarebbe 109,5, l'11 maggio 2015 114,25 e via via fino ad arrivare a scadenza. Se dovesse arrivare a scadenza senza essere mai stato sopra i 3054 punti, nelle varie date di rilevazione precedenti si possono presentare tre scenari. Se il valore di riferimento è un sottostante maggiore o uguale rispetto allo strike, il certificato rimborsa 128,5 euro. Se il valore di riferimento del sottostante è minore rispetto allo strike ma maggiore o uguale rispetto alla barriera, in questo caso fissato al 90% del livello trigger, il certificato rimborsa il capitale investito. Infine, se il valore di riferimento del sottostante è inferiore alla barriera, viene corrisposto un valore di rimborso proporzionale alla performa del sottostante a scadenza. Quindi in entrambi i casi il certificato non garantisce il rimborso del capitale investito solo nel caso in cui a scadenza il prezzo dell'indice è sotto il livello di protezione. Nel secondo caso è tutto interesse dell'emittente a inserire un'ulteriore data di rilevazione fissata dopo sei mesi, perché se il rialzo del sottostante avviene immediatamente ed è anche molto forte, l'emittente si trovebbe il rischio di dover remunerare molto di più il capitale perché andrebbe a rimborsare 109,5 dopo 12 mesi. È ovvio che l'emittente in caso di forte rialzo sottostante ha tutto l'interesse ad accelerarne il rimborso e quindi a mettere un'ulteriore data di rilevazione più vicina. Ho fatto questi due esempi proprio per sottolineare che se si riduce la protezione si può ambire ad una maggiore remunerazione del certificato in caso si realizzi l'evento positivo. Questo è ovvio in quanto l'emittente incassa più soldi dalla struttura opzionaria che ha costruito in quanto deve garantire una minore protezione e quindi può pagare cedole più generose. Alcuni emittenti chiamano questi certificati Atena o Autocallable Step. Gli Easy Express si distinguono dagli Express Certificates classici prevalentemente per la loro velocità e semplicità che sono sicuramente i punti di forza di questo tipo di certificato. Sai in anticipo qual è il tuo guadagno potenziale e già lo puoi incassare dopo solo un anno. Il prezzo di emissione è solitamente fissato sotto la pari e la scadenza è breve. La semplicità risiede nella liquidazione del certificato perché se il sottostante alla data di valutazione quota almeno pari al livello barriera, l'investitore riceve il valore nominale più la cedola. Se invece quota sotto la barriera, il valore del certificato e il conseguente rimborso seguono linearmente l'andamento sottostante. È l'ideale per chi escluda forti ribassi dei sottostanti per chi desidera un impiego di breve termine senza rinunciare ad opportunità di rendimento. Ad esempio, se ho a livello di protezione all'80%, l'importo di rimborso 100€ e un valore nominale di 80€, le soglie rilevanti del certificato definite in sede di emissione ed il valore del sottostante nel giorno di valutazione hanno un ruolo centrale per la determinazione del rimborso. Se il livello del sottostante alla data di valutazione raggiunge o supera il livello di protezione, il certificato viene liquidato a 100€. Io avendo investito 80€, quindi un guadagno pari a 20€. Nel caso in cui alla data di rilevazione il livello di protezione venga violato, all'investitore spetta un importo pari al valore del sottostante come nel caso di investimento diretto nel sottostante stesso. La barriera dell'easy express si dice essere discreta entrando in gioco solo alla scadenza finale. L'easy express può essere utilizzato per una strategia di recupero perdite derivanti da precedenti investimenti grazie alla caratteristica di avere un prezzo di emissione inferiore a 100€. Si supponga di aver investito 100€ in azioni X. Dopo un anno l'azione X ha perso il 15€ e l'investimento vale 85€. L'investitore può tenere l'azione in portafoglio sperando nel recupero delle perdite oppure può vendere il titolo incassando 85€ e acquistare un easy express avente come sottostante il titolo stesso e un prezzo di emissione di 85€. A costo zero l'investitore sa di poter incassare l'importo express di 100€ se la scadenza del valore dell'azione è un valore superiore alla barriera. Facciamo un esempio concreto. Telecom vale oggi 10 febbraio 2014 0,85. Se io gli avessi in carico 1€ potrei liquidare la mia posizione perdendo il 15% e comprare sul mercato l'easy express emesso dalla società generale che oggi costa 84,5€ e chi rimborsa a fine anno 100€ qualora il prezzo di Telecom alla data di scadenza sia superiore al prezzo barriera che in questo caso è stata fissata al momento di emissione a 0,70€. In questo caso si può parlare di operazione a costo zero perché se il sottostante continuasse a scendere e io avessi tenuto la posizione azionaria in perdita originaria avrei continuato a perdere. Anzi il vantaggio di essere passato su un certificato con queste caratteristiche mi permetterebbe di recuperare la perdita anche in caso di mercato leggermente ribassista purché il titolo Telecom non vada sotto la barriera a 70 centesimi di euro a scadenza. Questi certificati prendono il nome di easy express o recovery bonus ma sono di fatto come strutture dei bonus cap. Gli express worst of certificate sono una sottocategoria degli express certificate la cui caratteristica saliente è dovuta al fatto che la performance di questi certificati è legata all'andamento della peggiore performance del titolo o dell'indice facente parte del basket dei sottostanti rispetto allo strike price rilevato al momento di emissione. Sia a scadenza che alle dati di osservazione intermedie si guarda sempre al risultato peggiore tra le azioni o gli indici facenti parte del basket. Un esempio interessante da analizzare è un express worst of certificate emesso da Unicrate il 7 marzo 2014 con scadenza 7 marzo 2017 su un paniere di titoli azionari francesi e precisamente Danone, Carrefour e L'Oreal. Gli strike price dei singoli titoli sono per Danone 50,71€, per Carrefour 27,82€, per L'Oreal 121,50€ e la barriera riposta al 65% dei rispettivi strike price. In questa tabella riporto le date di osservazione intermedie che sono semestrali più la data finale e l'ammontare delle eventuali liquidazioni anticipate più l'ammontare dell'eventuale liquidazione finale. Il certificato è dotato del cosiddetto effetto memoria per rendimenti, cioè se la liquidazione anticipata avviene dalla seconda data di osservazione in poi, i rendimenti precedenti non percepiti vengono accumulati. Anche in questo caso a scadenza, qualora il certificato non sia stato rimborsato prima, possono capitare tre scenari. Se il worst off ha un prezzo sopra lo strike, il certificato rimborsa 141,52€. Se il worst off è sopra la barriera ma sotto allo strike, il certificato rimborsa 100€. Se invece il worst off è sotto al livello di barriera, il certificato rimborsa il nominale meno la performance negativa del worst off, dallo strike al giorno di rilevazione finale. Grazie. 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 Grazie.